Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, figlio dell'imperatrice Maria Teresa d'Asburgo e di Francesco Stefano di Lorena, è stato granduca di Toscana dal 1765 al 1790, anno in cui venne richiamato a Vienna, sua città natale, ed investito del ruolo di imperatore. Soprannominato dottore dai membri della sua famiglia per la mania di studiare e consigliare gli altri, è passato alla storia per essere stato un sovrano illuminato, più interessato al governo del suo nuovo paese che alla vita di corte o al rapporto con la monarchia asburgica. Arrivò in Toscana a soli 18 anni, con la moglie Maria Luisa di Borbone. Il suo pensiero riguardo la situazione politico-amministrativa toscana si può ricercare nelle parole di qualche decennio prima del conte Riscour, consigliere della famiglia dei Lorena. Il governo di questo paese è un caos quasi impossibile da sciogliere, è un miscuglio di aristocrazia, democrazia e monarchia. Ogni entrata è amministrata da tre o quattro tribunali che vi campano sopra. Il solo modo di sciogliere questo nodo, che possiamo chiamare davvero gordiano, sarà quello di tagliarlo e di creare un nuovo sistema, ma questo si potrà fare col tempo, il lavoro e la pazienza. Il giovane Granduca darà così il via a diverse riforme illuminate, tra cui la più celebre, la riforma penale, grazie alla quale la Toscana, nel 1786, abolì, come primo paese al mondo, la pena di morte e la tortura. La stessa riforma penale prevedeva una riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia penale, la creazione di un nuovo sistema di pulizia a Firenze e maggiori garanzie processuali, secondo il pensiero, prevenire più che punire. Ci sono state tre fasi riformatrici principali. La prima fase vide la nascita di nuovi provvedimenti di politica economica, la liberalizzazione del commercio dei grani, che favoriva l'agricoltura e quindi i principali interessi economici toscani. La riduzione del debito pubblico e l'abolizione degli ormai obsoleti tribunali delle arti fiorentine, al posto dei quali venne creata una camera di commercio. La riforma dei comuni, che rese autonomia agli stati locali. La seconda fase vide in prima linea la già citata riforma penale, mentre nella terza fase di riforme, che corrispose agli ultimi anni di reggenza, il gran duca iniziò a rivedere i rapporti con la chiesa, con la volontà di laicizzare maggiormente il paese. Il sovrano illuminato si dedicò anche all'istruzione, con l'istituzione di una scuola pubblica e la costituzione di istituti femminili per favorire l'emancipazione delle donne. Abbiamo già accennato al suo amore per lo studio e la cultura. Pietro Leopoldo aveva una grande passione per le scienze, passione che culminò con l'istituzione nel 1775 dell'imperiale e reale museo di fisica e storia naturale, il primo museo naturalistico ad essere aperto al pubblico e il primo a presentare la natura nella sua completezza. Le riforme leopoldine trasformarono in breve tempo il volto politico del paese, rendendolo all'avanguardia e gettando le basi per una moderna Toscana. Difficile fare del bene al pubblico contro il suo consenso, perché è difficile che qualche governo o ministro, anche il più illuminato, sappia meglio quello che conviene ed è utile alla nazione di quanto non lo sappia e la stessa e di suoi individui.